wey giovani siamo a flims lax per fare volt and bike e la c'è il zio frank vamos yeppa sono partiti quanti chilometri facciamo 180 180 di solo salita già se agriari a me non piace allora si sale a nuggets poi stiamo già a una pendenza da professionista non va bene unici per cento dodici adesso non c'è un piccolo cambiamento di programma benvenuto a barci che abbiamo preso la cabina e arriviamo su a nuggets pagato 29 franchi poca la bindella una discesa la giornaliera costa 51 che caso mai cia mucca cia mucca che passo incredibile grazie frank aspetta che qua devo partire da qua bisogna tirare giù un po' la sella qua eh qua cominciano le paraboliche io ho visto passare giù un ragazzino buon down il casco tutto attruttato io ho visto passare giù un bambino di 5 anni qua qua in centro ma sono pazzi sono salto qua pazzi 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 kam pazzi am Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.